E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Come è stato detto, i tre capi dei dipartimenti, cioè i tre grandi esseri, sono il Manu, il Bodhisattva e il Machoan e rappresentano la triplicità di tutta la manifestazione che può essere espressa nella forma seguente, ricordando che tutto questo si riferisce alla soggettività e perciò all'evoluzione della coscienza e, in primo luogo, all'autocoscienza dell'uomo. Tutti gli esseri umani appartengono all'uno o all'altro dei tre dipartimenti, i quali hanno tutti uguale importanza poiché spirito e materia sono una cosa sola. Essendo espressione dell'unica vita, sono così interdipendenti che esprimerne le funzioni con divisioni schematiche può anche indurre un errore. I tre grandi signori cooperano strettamente poiché l'opera è una, così come l'uomo, pur essendo una triplicità, tuttavia è un'unità individuale. L'essere umano è una forma per mezzo della quale un'entità o vita spirituale si manifesta usando l'intelligenza secondo la legge evolutiva. Per questo i grandi signori sono strettamente connessi con le iniziazioni di una unità umana. Essi sono troppo occupati con cose più importanti e con attività di gruppo per avere un rapporto qualsiasi con un essere umano fin quando si trova sul sentiero della prova. Quando con i propri sforzi è passato sul sentiero del discepolato, il maestro particolare cui è affidato riferisce al capo di uno dei tre dipartimenti, a seconda del raggio cui l'uomo appartiene, che questi si avvicina alla porta dell'iniziazione e dovrebbe essere pronto al grande passo in una data incarnazione. In ogni vita e più tardi ogni anno egli presenta un rapporto fino all'ultimo anno del sentiero della prova, quando i rapporti diventano più specificati e più frequenti. Inoltre in quest'ultimo anno il nome del candidato è presentato alla loggia e dopo che il suo maestro ha riferito e il suo rapporto è stato brevemente discusso, il suo nome è messo ai voti e vengono scelti i padrini. Gli elementi più importanti durante la cerimonia sono l'iniziatore, il triangolo di forza formato da tre adepti o tre kumara, i padrini. Alle prime due iniziazioni due maestri stanno ai lati del candidato entro i limiti del triangolo. Alla terza, quarta e quinta iniziazione il maa choan e il bodhisattva fungono da padrini. Alla sesta e alla settima entro il triangolo esoterico stanno due grandi esseri i cui nomi si tacciono. Il compito dei padrini è di far passare attraverso i propri corpi la forza energia elettrica emanante dalla verga di iniziazione. Per irradiazione tale forza circola attorno al triangolo e ad essa si aggiunge la forza dei tre custodi, poi passa attraverso i centri dei padrini e con un atto di volontà viene trasmessa all'iniziato. In altre pagine di questo libro si è detto quanto basta riguardo alla loggia dei maestri e al loro rapporto con il candidato all'iniziazione e si è anche accennato al compito dello stesso iniziato. Tale compito non è ignota agli uomini ma è ancora soltanto un ideale e una possibilità per un lontano futuro. Tuttavia se l'uomo si sforza di raggiungere quell'ideale e di dimostrarlo interiormente si accorgerà che non è soltanto una possibilità ma qualche cosa di raggiungibile purché lo sforzo sia adeguato. La prima iniziazione è possibile a molti ma la necessaria concentrazione in una sola direzione, la fede costante nella realtà che ci attende affiancata dalla volontà di sacrificare tutto piuttosto che retrocedere scoraggia molti. Se quest'opera servirà non fosse che ad incitare alcuni a rinnovare lo sforzo non sarà stata scritta in vano.